Le imprese campane e le famiglie campane pagano la tassa di smaltimento rifiuti come le imprese e le famiglie milanesi o romane e non capisco perché quello che accade in tutta Italia e in tutto il mondo non debba accadere in alcune regioni. Se produci dei rifiuti, quasi ovunque quei rifiuti significano ricchezza, non significano devastazione della salute. E quindi bisogna avere il coraggio di spiegare alla nostra gente che per il nostro bene, la nostra salute e il nostro business, perché io ho visitato paesi europei dove i termovalorizzatori sono nel centro della città e sono dei modelli anche culturali invidiabili, che non possiamo più far finta di niente. Se hanno fatto finta di niente per trent'anni prima di noi, io non sono al governo per far finta di niente. Io i problemi li voglio risolvere e i rifiuti vanno smaltiti producendo anche utile, producendo energia, producendo ricchezza, non producendo i roghi tossici che ammalano e ammazzano.